Qui c'è un'idea, un'idea forte, che a Schmitt viene dal suo essere in grande dimestichezza con la presunta ontologia cattolica, reale nella consapevolezza degli autori ai quali facciamo riferimento, Mest soprattutto Bonnard, presunta perché in mano a Schmitt quella consapevolezza ontologica viene di fatto meno. Questo è un libro in cui un autore attraverso lo strumento della critica che si vuole esterna, cioè dal punto di vista del cattolicesimo antimoderno, è un libro in cui l'autore attraverso uno strumento che si vuole esterno entra all'interno di un universo e si accorge di esserne sostanzialmente prigioniero. Cioè si accorge che la grande operazione moderna di spostare il centro dell'ordine, il centro di riferimento del pensiero dalla sostanza divina alla sostanza soggettiva, è riuscita ed è al tempo stesso fallita. è riuscita perché appunto l'io moderno si pone come il centro delle relazioni ordinative, delle mediazioni, ed è fallita perché in realtà l'io moderno, dice Schmitt, è un io che è il ragno dentro la propria tela e da quella non viene fuori. Il romantico vive dentro una bolla, sostanzialmente, se vogliamo adoperare un termine contemporaneo, vive dentro una bolla, vive guardando la televisione, vive guardando un computer e crede di vivere. E dunque Schmitt aveva a disposizione lo strumento del diario e quando immagina una società in cui l'unica modo per esistere, l'unica forma di elaborazione è scrivere il proprio diario e l'unica scienza è studiare il proprio diario o studiare i diari altrui, sta dicendo appunto una società in cui il soggetto ha perduto l'oggetto, ha voluto essere l'oggetto e ha perduto l'oggettività, ovvero una società in cui la mediazione invece di essere il rapporto soggetto-oggetto è il rapporto soggetto-soggetto, ovvero, detto ancora in un altro modo, un mondo in cui la praxis è impossibile, un mondo di poesis, un mondo di poesia, in cui non c'è praxis. Dunque, attraverso l'antagesimo politico, Schmitt opera una critica dell'ideologia, insomma, è la sua ideologia tedesca. Una critica dell'ideologia perché bisogna capire che cos'è il romanticismo per i tedeschi, cioè è non solo la loro origine, ma è il brodo dentro il quale vivono. Non è come per noi una corrente letteraria fra le altre, nemmeno tanto visibile. La Germania culturale entra sulla scena mondiale attraverso la filosofia e attraverso il romanticismo. Il romanticismo è la fonte inesauribile di ogni elaborazione intellettuale letteraria tedesca e quindi parlare del romanticismo è sostanzialmente parlare della Germania. E dire il romanticismo è la dimensione della mancanza di realtà è come dire la Germania non è in grado di intercettare le dinamiche della realtà, quello che della Germania diceva Marx sostanzialmente. Ora, il punto è, bene, abbiamo una critica dell'ideologia, abbiamo, grazie a un punto di vista esterno, riusciamo a vederci. Siamo capaci di critica nel senso di portare alla luce difficoltà strutturali. E dunque si suppone, poiché il romanticismo è perdita di realtà, soggettivismo, ma soggettivismo dove il soggetto non domina, il soggetto è chiuso in se stesso, allora questo vuol dire che noi siamo capaci di trovare la realtà, a differenza dei romantici. Cioè siamo capaci di praxis, perché conosciamo la realtà e sappiamo agire, la sappiamo adoperare, ne sappiamo ricavare un senso. Ecco, e tutti, ma proprio tutti, hanno capito che è questo secondo passaggio che non funziona per Schmitt, perché Schmitt al romanticismo contrapone, appunto, l'avete detto, il decisionismo, che è un altro modo di perdere la realtà. Diverso, certamente diverso. Qual è la differenza fondamentale? Che il romanticismo è nichilista e non lo sa. Il decisionista è nichilista e finge di non saperlo. Il romanticismo è nichilista perché ha solo se stesso, il decisionista mette le mani dentro la storia, no? Weberianamente mette le mani negli ingranaggi della storia. Ma che cos'è per lui la storia? Che cos'è per il decisionista la realtà? È esclusivamente di fatto conflitto. L'avete detto, cioè il romantico è quello che nel 1848 non riesce nemmeno a capire che cosa sta succedendo. Vede il più grande conflitto del XIX secolo, non lo capisce, non capisce che lì non è un'opzione prendere parte. È un obbligo. Si esiste solo se si prende parte. Bene. Dunque il decisionista vede la realtà come conflitto. ma vede che la realtà è conflitto. Il romantico no, il romantico si ritira, il romantico si chiude sostanzialmente in se stesso con una chiusura che egli non presenta come chiusura, presenta per l'appunto come superiorità. Ma questo è un giochetto lessicale. Il romantico danza sul conflitto semplicemente perché non vede il conflitto. Se lo vedesse saprebbe che sui conflitti non si danza perché il conflitto è precisamente la mancanza di sostanza. Ecco. E invece Schmitt lo sa che l'unica sostanza con la quale possiamo avere a che fare è la mancanza di sostanza nella forma del conflitto. il romantico non sa che l'unica sostanza con la quale egli romantico ha a che fare è la mancanza di sostanza e la mancanza del conflitto. Per cui la differenza è questa. È chiaro che da due punti di vista Schmitt e i romantici si assomigliano. Dal punto di vista dell'ontologia cattolica che evidentemente vede in entrambi delle forme di giusta punizione del grande peccato moderno cioè del peccato dell'ateismo e dal punto di vista di chi crede che la praxis sia possibile. Naturalmente Schmitt afferma di essere bene in grado di operare di pensare la praxis in modo attivo ed è appunto la decisione tutta la sua carriera nella quale il decisionismo è al tempo stesso una parte ma è anche la forma trascendentale del suo modo di pensare tutta la sua carriera dimostra l'avete detto che vi è da parte di Schmitt una sostanziale indifferenza davanti all'oggetto dove l'indifferenza non è ironica non è dettata da superiorità è dettata dalla incapacità di giustificare l'oggetto sostanzialmente cioè di uscire dall'idea che un oggetto vale l'altro dove l'elemento che differenzia l'oggetto è la pura sussistenza ciò che esiste ciò che è uscito da un conflitto merita di esistere nelle misure in cui è in grado di resistere alle tendenze entropiche tipiche del moderno se non è in grado di resistere alle tendenze entropiche gli si dice addio Schmitt fa questo nei confronti della Repubblica di Weimar non fa questo nei confronti del secondo Reich perché adesso il secondo Reich non aveva alcuna affezione verso la Repubblica di Weimar aveva in un qualche modo una affezione ma dopo aver tentato di salvarla tirandola verso una direzione estremamente conservatrice l'abbandona senza una lacrima perché ne riconosce la incapacità di esibire energia politica la riconosce abbandonata all'oblio di se stessa cioè si esiste l'esistenza è l'essere consapevoli della difficoltà dell'esistenza l'esistenza politica è appunto l'essere consapevoli della tragicità dell'esistenza chi non è consapevole di ciò scompare è illacrimato voi capite che vi è un'enorme differenza esistenziale fra queste due posizioni quella del romantico che non s'accorge del proprio essere nel mondo quello del decisionista tragico che s'accorge del proprio essere nel mondo e tuttavia hanno in comune la mancanza di oggettività questo Schmitt è stato detto sempre è stato detto da Leavitt in modo esplicito in quel saggio su un decisionismo occasionale ma è stato detto da tutti i suoi rivali giuridico-politici quando parlavano della sua della sua giurisprudenza orientata ma è stato detto da Schmitt che appunto si è definito un avventuriero intellettuale per il buon motivo che la sua tragicità è una tragicità ecco non statica è una tragicità errabonda è una tragicità che in un qualche modo qui mi rifaccio all'intervento di Azzolini è una tragicità che in qualche modo ha in sé qualche cosa di romantico di romanzo non tanto perché abbia qualche cosa di normativo in sé ma perché ha in sé l'elemento della mobilità mentre invece la tragedia è qualche cosa di estremamente fisso in cui si fronteggiano fin da subito caratteri definiti in una posizione impossibile ora uno si potrà dire beh, bene questo allora è un libro per due tipi di specialisti per lo specialista del romanticismo tedesco e per lo specialista di Schmitt per lo specialista del romanticismo tedesco questo è un libro quasi tabù perché Schmitt in Germania non ha non può avere fortuna non può avere la fortuna che ha nel resto del mondo per motivi gli hobby e perché il giudizio assolutamente negativo sul nichilismo del romanticismo brucia tutta una serie di possibilità che nel romanticismo la critica vuole vedere perché poi ci sono sono tutte sono possibilità vuoi liriche vuoi diffusione fra il soggetto e l'oggetto ora liriche da una parte e statiche dall'altra e quindi questa posizione è una posizione che non è come si dice mainstream come invece è mainstream il pensiero di Schmitt fuori dalla Germania ora a noi che cosa interessa di questo libro io credo al di là del fatto che appunto lo specialista del romanticismo dirà insomma questa è una lettura straordinariamente parziale che non ci serve ecco non ci serve per capire come sono andate veramente le cose tanto per citare non ci serve perché il romanticismo politico esiste non è vero che non esiste esiste e sono perché mai Schmitt non ha parlato di Baader eccetera no poi ci sono quelli che dicono che il romanticismo politico è Haller e questi si sbagliano ma quelli che dicono che Baader potrebbero anche avere ragione Schmitt praticamente non ne parla se la prende col povero Adam Müller ma perché se la prende perché Schmitt scrive dimostrando ancora una volta il suo grandissimo fiuto culturale scrive nel momento in cui comincia in Germania la Müller Renaissance che è una propagine del Org Kreis cioè è una via attraverso la quale si afferma si tenta l'affermazione di un certo tipo di irrazionalismo di destra sostanzialmente attraverso appunto Adam Müller allora Schmitt non è un irrazionalista è molto peggio non è di destra in quel senso è di destra in un altro senso detesta tutti questi autori di destra tanto che appunto un'interpretazione di questo libro è che io condivido solo in parte è poco in realtà che Schmitt avanzi la propria candidatura ad essere il vero intellettuale della destra tedesca che nel 18 non poteva essere insomma il romanticismo è una riserva di senso per la Germania tant'è vero che appunto negli anni 20 attraverso autori legati a Georg Kreis assistiamo alla rinascita di Adam Müller perfino ad opera di studiosi che poi diventeranno nazisti e così abbiamo lo Schmitt che diventa nazista violentemente anti-mulleriano insieme ai Mülleriani ma questo è una contraddizione da poco a fronte di altre dunque questo libro può servire poco per capire il romanticismo storico può servire a capire continui tentativi oggi la Germania non funziona più così ma insomma finché aveva una propria autonomia i continui tentativi della Germania di riapprocciare il romanticismo storico diciamo non è un caso che al romanticismo abbia guardato con grande interesse il Nietzsche giovane della Gaia Scienza non è un caso che Schmitt chiuda la propria introduzione a questo libro citando Nietzsche cioè in realtà il bersaglio grosso se il romanticismo è la perdita di oggettività il bersaglio grosso non è il povero Adam Müller non è neanche il romanticismo politico storico il bersaglio grosso è una perdita di oggettività è una inerzia è una difficoltà della prassi una morte della prassi che hanno come proprio epigono ma al tempo stesso come proprio elemento di spicco epocale la figura di Nietzsche e qui veniamo al punto la figura di Nietzsche è detestatissima da Schmitt in realtà ciò che Schmitt detesta è il nicianesimo volgare popolare la figura di Nietzsche in Schmitt invece ha un ruolo cioè Schmitt è interno al pensiero negativo che gli piace o no e quindi questa è una gara è una partita fra cugini fra fratelli nemici cioè chi è più capace di abitare la perdita di oggettività i romantici che la abitano liricamente quei romantici che finiscono con Nietzsche il quale secondo Schmitt abita la perdita di oggettività in modo enfatico oppure Schmitt che abita la medesima perdita di oggettività trasformando quella perdita nella capacità di essere consapevole che l'unica oggettività che c'è al mondo è il conflitto e che quando c'è il conflitto ti devi schierare lega il romanticismo al liberalismo e al parlamentarismo e come spesso capita ai tedeschi l'eccesso di radicalità dell'interpretazione lo lo trova lo consegna sostanzialmente disarmato alla empirica capacità di gestire di gestire la non oggettività che è delle forze secondo lui inerti del liberalismo che è esattamente quello che dicevate voi prima qui non c'è solo la critica del romanticismo c'è la critica di tutti gli intellettuali radicali da salotto che sono capaci di dire tutto e il contrario di tutto su tutti gli argomenti possibili credendo di essere particolarmente brillanti facendo continuamente il gioco di forze e di soggettività che molto meno interessate al radicalismo teorico tengono in piedi e tengono in pugno i poteri reali di questo mondo da questo punto di vista è un libro che parla moltissimo a noi a me almeno parla moltissimo cioè è veramente il memento tutte le volte che dici qualche cosa su qualche argomento di politica sei sicuro di non essere un romantico politico sei sicuro di non parlare a te stesso di te stesso sei sicuro di avere un qualche rapporto con una qualche oggettività questa è una domanda che secondo me faremmo bene a farci tutti e qualcuno non fra noi ma insomma qualcuno particolarmente da questo punto di vista come ho scritto in chiusura è un libro questo che va oltre se stesso cioè si misura con qualche cosa che va al di là della polemica vetero-cattolica nei confronti della modernità si misura con una questione che non è risolta non è risolubile cioè con la questione della medizione che è al tempo stesso dissoluzione invece che essere costruzione come come la modernità sempre preteso che fosse è dissoluzione dissoluzione dell'oggetto e impotenza del soggetto io credo che il nostro sforzo più grande dovrebbe essere quello di reagire a questa a questa entropia dentro la quale passiamo il nostro tempo un'altra un'altra Grazie a tutti.